Cronaca, un giovane di 22 anni è morto la scorsa notte in un incidente stradale che è avvenuto a pochi chilometri da Lanciano. Il 22enne Davide Andreoli stava rientrando a casa con la sua auto, una Peugeot Station Wagon di colore azzurro quando è uscito di strada ed è finito prima contro la recinzione di una villa e poi contro un albero.